Si chiama Prince del progetto presentato a Teramo, nato per potenziare le attività di collaborazione già in essere con i servizi sociali del Comune, enti e associazioni del territorio. In particolare sono due le iniziative presentate, sono l'attivazione di un numero verde per un pronto intervento sociale sempre disponibile e la creazione di una casella di posta presso la Casa della Legalità per quei cittadini senza fissa dimora. Oggi è una giornata molto importante per il Comune di Teramo e soprattutto per tutta la comunità perché finalmente vediamo il frutto di un lavoro incessante che è iniziato l'anno scorso per reperire fondi soprattutto per le persone meno abbienti e oggi inauguriamo e presentiamo il Prince, un progetto che ha una vocazione importantissima che è quella di dare dei diritti alle persone meno fortunate, soprattutto quelle che si trovano a rischio di esclusione sociale e soprattutto quelle che si trovano già nel segmento dell'esclusione sociale. Come funziona? Innanzitutto grazie alla collaborazione che il Comune di Teramo ha instaurato con le associazioni del territorio, quindi con la Caritas, con Paresia, con Drita e con le officine solidarie siamo riusciti a dare questi due servizi, uno che consiste nel pronto servizio sociale H24 e l'altro che è il fermoposta, entrambi di un'importanza vitale. I due interventi vedranno impegnati direttamente la Caritas e l'Arci che già da tempo collaborano a livello nazionale in molte iniziative. Questa attività comunque va a potenziare un servizio che è già operativo con i servizi sociali del Comune, quindi potenzierà una rete già esistente e favorirà sicuramente degli interventi di collaborazione che possono dare risposte integrali ai problemi di povertà. La situazione che preoccupa maggiormente è il netto aumento delle richieste di aiuto da parte dei cittadini. Riguardo a Teramo Città abbiamo visto che i pasti alla mensa della Caritas sono passati dai 25 ai 30 ai 40 ai 45, così anche la richiesta dei generi alimentari e soprattutto il pagamento delle utenze e degli affitti. Il problema che sta emergendo è proprio quello abitativo perché la gente durante il Covid ha potuto sospendere il pagamento degli affitti ma adesso comunque la sospensione degli sfratti è finita e quindi sicuramente questo sarà un problema che emergerà nei prossimi mesi.